Questo torneo con delle squadre molto competitive ci permetterà di tastare il polso di tutti i cambiamenti che abbiamo portato quest'anno alla squadra con l'inserimento di molti giovani, sia italiani che stranieri, con i soliti Marchionni, Cavagnini, Suvenengo e Barbibai che faranno un po' da chiocce però è ovvio che iniziare un percorso incontrando già squadre di un certo spessore può dirci che potenzialità abbiamo quindi benvenga anche dal punto di vista credo culturale per la regione è un momento importante noi da campioni d'Italia ovviamente speriamo di portare questa nostra disciplina a più persone possibili sperando di riempire i palazzetti e anche per parlare di cose di cui non dobbiamo dimenticarci mai l'Abruzzo è ricco che non è solo lo sport ma sono l'enogastronomia, il turismo e quant'altro penso che sia un binomio molto importante grazie